sto facendo qualche video qua al lago di endine c'è un uccellino lì davanti intanto io sto volando col drone tipo là in fondo da qualche parte queste sono alcuni dei filmati che ho fatto durante il volo questo è il lago di endine bel giretto fatto col drone ho fatto 20 minuti e mezz'ora poi ho fatto varie foto che ho messo anche su web maps questo era un controluce assurdo però sono riuscito a salvare il video in qualche modo questo è il mio shot preferito il fiumiciatolo e tutto quanto questa è una panoramica a 360 gradi che trovate su google eccolo oh preciso eh quasi preciso al millimetro oppa la ok andiamo a fare un giretto sto maledetto bambino rompicoglioni è stato tipo due minuti buoni a girarmi davanti alla telecamera mentre tentavo rifilmare e non ho capito cosa stesse facendo mi fa un po' paura questo ponticello penso che scenderò limpida e limpida l'acqua non ho capito Ah, i casinelli! Ah no, sono poni! Ah! Sono poni! Ciao! Allora, vediamo di vedere un po' da vicino i casinelli. Ehi, i poni! My little pony! My little pony! Ma che belli che siete! Ciao! Ehi, cosa c'è? Ti fa paura? Ti faccio niente! C'è da dire che ha bella vista questa qua, con i giunchi così davanti. Carina, carina, bella! E il culo non è sp... Ancora quei cosi? Cosa sono? Ecco le paperonze! Queste sono paperonze vere! Ok, adesso faccio un'altra dronata, faccio qualche foto per Google Maps. Mi metto il mio fido... Portaculo! Almeno mi siedo... E vediamo. Ah, comunque tutte le robe che sono nel link in bio. Comunque il mio drone attuale è il DJI Mini 3 Pro. Che bellino che è! Quanto bello è! Quanto bello è! E ho messo le alette stealth che fanno leggermente meno rumore. Dovrebbero allungare un po' la vita della batteria di circa un minuto. Che voi dite, vabbè, un minuto che cazzo è? Eh, un minuto fa! Un minuto fa! Ma soprattutto è veramente, veramente silenzioso con queste eliche. Cioè, già era silenzioso di base, ma queste eliche è molto, molto meglio. Ok, decolliamo. Sempre meglio lasciarlo un attimo così, per vedersi stabile, prima di decollare del tutto. E via, verso nuove mirabbonanti avventure. E via, verso nuove. Stop Recording. Ok, torniamo a casa. O meglio, alla macchina e poi a casa perché... No, ciao, andare a casa in bici ci impiego 46 anni, se non muoio. Ciao, ciao. Spero vi sia piaciuto.